ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su spaceborn un gioco che ho da più di un anno ed è un gioco che ho aspettato che arrivasse alla fine del suo sviluppo infatti è uscito da early access ed è in versione 1.0.6 attualmente ho letto online un paragone molto interessante infatti spaceborn l'hanno paragonato con una sorta di mountain blade ma nello spazio è davvero molto interessante per quanto magari alcuni aspetti a livello grafico non siano ancora magari a livello di altre produzioni il gioco ha un ottimo sistema di tutorial ce ne sono tre che vi porteranno via circa un'ora tra tutto sono fatti anche piuttosto bene sono il gioco in inglese questo bisogna metterlo in testa che non è in italiano non so se arriverà una traduzione amatoriale un po come quella su mountain blade non lo so al momento io non ne ho trovate quindi se ne avete fatemi sapere insomma e ben venga il gioco si divide in due modalità la modalità storia o la modalità sandbox oltre che quella training allora la sandbox ci dà un po come succedeva su x4 su tutta la serie x3 insomma x2 la modalità diciamo senza la storia guida mentre la storia ha tutte le feature del gioco ma con anche una storia dietro che ci guida dove andare io inizierei con la modalità sandbox perché questo sicuramente non è un video dove voi imparerete a giocare dove vedremo tutte le features del gioco ma in realtà vi spiegherò un pochino quello che è di base il gioco e quali sono le sue meccaniche principali possiamo partire come mercenario come pirata e ogni abilità sale in base a quello che noi facciamo in gioco rock mercenario hanno sono solo questi ok no perché io ho provato l'altra modalità non ho ancora questo io faccio mercenario choose enter your charter name in the contrario magari no in no scusami in die ok andiamo approvo yes ok giochiamo a easy allora non lo so onestamente keyboard mouse ok ci sono al momento più di 100 sistemi 30 stazioni svariate quantità di pianeti però l'universo quello non è procedurale quindi ci muoviamo all'interno dei sistemi attraverso dei portali e la cosa interessante è che poi una volta attaccati su una stazione possiamo camminare in giro per la stazione parlare con gli npc prendere delle missioni e prendere le taglie vendere comprare insomma è quello che vi faccio vedere ora saranno i primi passi all'interno di questa partita la cosa che ho trovato molto molto macchinosa il fatto che all'interno delle stazioni sono tutte bene o male diverse ci si mette veramente un casino a capire dove andare perché vedete qua avete le bounty quindi premendo m vedete che stiamo andando verso le bounty premendo il tasto e la parte che ci si può compenetrare si vedono tutte le bounty che poi si possono andare ad accettare si vede che nave sta guidando il pirata dove si trova la difficoltà e la ricompensa nonché la reputazione che si va a guadagnare facendolo in alto a destra vedete che c'è il luogo dove ci troviamo che la stazione a book nel settore a 1 scusate nel settore a poi vedete che poi ci sono altre cose come ad esempio qui c'è una piccola stazione cina dove si può andare a vedere lo status della nave si può andare anche a comprare delle dell'equipaggiamento per la nave no scusate qua il trade in pratica si possono andare ad acquistare diverse navi poi andremo a vedere anche quello e possiamo andare anche a accedere alla stazione ovviamente dove ci sono alcune io qua sono già stato perché qua mi portava nel nel tutorial vi faccio vedere che qui avete la galaxy bank poi ogni stazione diversa perché sono tutte fatte comunque a mano e ce ne sono c'è ce ne sono mi ricordo 30 ecco la banca il luogo dove si depositano le cose vedete qua noi abbiamo lo ship cargo langers vediamo tutto quello che c'è all'interno che abbiamo noi qui nella stazione attaccata e qua lo spazio per la banca e poi possiamo andare anche va bene di qua ci porta in altre zone della della mappa possiamo interagire con le persone dove a cui possiamo chiedere gli ultimi rumors che sono successi abbiamo il bazar dall'altra parte dove si va a commerciare e la cosa davvero interessante è che come su x4 come su altri giochi simili si può andare a vedere cosa è più acquistato cosa più richiesto qua abbiamo invece vendita al dettaglio quindi il mercante quale vabbè il mercante che vende diverse cose con vari prezzi qua vengono vendute le armi per la nave perché da quanto ho capito non si combatte a terra insomma infatti la è un po grezzina la parte qua a piedi qui abbiamo la possibilità di spendere per acquistare affittare scusate un hangar all'interno della stazione è una cosa che ancora ignoro mentre qua avete il trader il trader è il fulcro del commercio perché qua potete vedere quanto hanno di stock delle varie merci le merci sono queste e quanto ne hanno a livello di domanda infatti se voi noterete che uno stock è decisamente più alto di una domanda significa che ne hanno un surplus quindi potranno essere vendute ad altre in pratica avranno un prezzo inferiore perché appunto ne hanno più di quelle che gli servono in questo caso l'unica le uniche due che mi vengono in mente sono tre sono food fuel tank e fuel e anche le medicine forse più le medicine è la stessa cosa che mi faceva fare nel tutorial io vado a comprare delle cose ma al momento diciamo che non non ne ho moltissime anzi non posso comprarne assolutamente perché col sandbox sandbox è una modalità molto molto cattiva non ci permette di acquistare nulla assolutamente nulla ora usciremo dalla stazione e andremo a vedere la nave e intanto qua ci sono altre cose che non ho ancora capito perché sono i living quarter dove la gente può vivere ma pare solo i cittadini quindi al momento qua dovrò capire che cosa in che cosa consiste qua ci siamo ci sono gli officer dove si può andare a parlare e si può chiedere se hanno delle missioni per noi e questo ci propone da nata xiax frigate non vuole lasciare il nostro settore se distruggi cinque navi degli AR14 nel sistema solare AR14 sarà ricompensato bellamente ok ok ho accettato quindi nel sistema AR14 dobbiamo andare e dobbiamo distruggere cinque navi ora vi faccio vedere un po affollato qua anche se in realtà non si può fare granché perché alla fine queste persone con poche possiamo parlare possiamo chiedere chi sono le varie razze sì poi non mi fanno impazzire queste diciamo lastre di metallo insomma però è un gioco che è uscito ok dall'early access è un gioco che mi piace perché devo dire che io ho sempre adorato questi tipi di giochi un mountain blade spaziale fantastico quella davanti a noi è la nostra nave credo non so se gli stanno pulendo il parabrezza con questo prendiamo la nave quindi ce ne usciamo ora da dire ce n'è perché sicuramente questo è un video iniziale vi faccio vedere all'inizio mi direte che cosa ne pensate poi ovviamente ognuno si deve godere il suo viaggio poi se volete altri video magari una live perché no allora siamo in questa modalità in cui noi possiamo andare a cliccare sulla stazione sui vari oggetti sui loot sulle cose che vediamo e possiamo andare da qua a scegliere di targettarla di andare ad attaccare con il tasto shift si passa invece al controllo in prima persona quindi si può andare ad accelerare decelerare muoversi col tasto rf spostarsi adesso qua probabilmente non lo vedete in alto in basso vedete ci si può spostare si può andare a ruotare e col tasto c si va all'interno mentre invece col tasto control di nuovo ci si muove all'interno di questa modalità o dell'altra andando a cliccare le varie cose m no scusate col tasto t nella modalità così ci fa vedere all'interno del sistema solare una scansione possiamo andare a muoverci cliccando lì andando a selezionare warp possiamo andare a muoverci rapidamente all'interno dello stesso sistema solare ma io al momento col tasto j vado a vedere la missione che ho accettato dobbiamo muoverci nel solar system AR14 quindi io adesso prendo la mappa e guardo dov'è l'AR14 che è questo no dv14 scusate sono un babbano io AR14 è cui che ce lo evidenzia pure dice che ci sono missioni qua ok perfetto io vorrei andare lì quindi devo andare a trovare un portale eccolo là un portale dovrebbe essere quello adesso diamo un'occhiata al gate bisogna fare attenzione perché il gate dipende da che parte vogliamo andare io credo sia questo quindi io faccio warp la visuale poi cambierà sì infatti all'interno della nave le navi sono tutte più o meno diverse quindi insomma e le armi allora della nave si devono dire due cose ci sono tre modalità di sparo lo sparo con i jimballed insomma le armi e proiettile col tasto sinistro del mouse i missili col tasto destro e il laser col tasto spazio i laser intervengono sono micidiali dopo aver abbattuto gli scudi almeno da quello che ho visto ora siamo in questa modalità qui seleziono il gate faccio jump e ci appropingiamo a saltare mentre vabbè a parte qua sotto che ci sono tutte le voci del tutti i menu la nave in base a come viene equipaggiata viene a 5 diciamo perk 5 abilità da poter usare ogni stargate in ogni regione controlla un viaggio all'interno di un bordo e quindi va bene allora vedete possiamo viaggiare da questa parte quindi ce ne possiamo andare a r14 e quindi andiamo a fare il salto questo è l'inizio vi sto facendo vedere una missioncina banale che probabilmente se il gioco è cattivo come mountain blade non riusciremo a fare però insomma quello è poi altra cosa qua sotto ci sono i menu vi faccio vedere vabbè manuale scanner sono tutte le modalità che abbiamo visto possiamo andare ai droni possiamo vedere l'atlas che è quello che abbiamo appena visto prima abbiamo il nostro personaggio che quindi qui salirà di abilità ogni volta che faremo qualcosa comunque che ha a che fare con quello quindi questo sale un po' alla skyrim un po' per conto suo tagli sulla testa harvest mastery non so ancora esattamente cosa sia ma so che cos'è questo che sono le abilità ogni volta che saliremo di livello potremo andare a potenziarci un punto abilità il primo che dobbiamo prendere fosse questo e poi andremo a potenziare l'albero di abilità che ci darà maggiori danni maggiori diciamo un'efficienza maggiore nelle varie cose qua abbiamo l'arvest mastery che è un'altra cosa ancora che ci permette di potenziare tutto quello che riguarda il looting piuttosto che la gestione dei wormhole cioè non è diciamo così banale come gioco insomma e qua invece le bounty cioè le taglie che abbiamo sulla testa al momento niente perché abbiamo appena iniziato qua possiamo accedere alle missioni che abbiamo visto prima con quelle completate le fallite i contratti quindi sono le taglie che abbiamo accettato questo abbiamo lfp appunto sono i contratti che vi ho appena detto sono raggruppati in tre categorie i freelance quelli di commercio e quelli di pirati va bene qui cosa importante è l'economia l'economia è quello che vi stavo dicendo prima possiamo andare in ogni settore e vedere che cos'è venduto bene cos'è venduto male insomma quello che vi dicevo prima se voi cliccate su un settore potete vedere la domanda di ogni cosa se un prezzo è più basso più alto al momento nel settore A1 si vendono bene le medicine cioè diciamo che si comprano bene le medicine da quello che ho capito insomma e così via andate a vedere tutte le diciamo le merci sono queste non sono tantissime qua vedete tutti i settori dove è possibile poi fare affari abbiamo qua le news con tutte le diciamo una sorta di notizie di tutto quello che succede le breaking news dei vari settori sarebbe bello forse in italiano per questo motivo qui il social abbiamo il leader delle varie fazioni che possiamo vedere e con le news diplomatiche aiuta forse un po' più di mountain blade a tenere sott'occhio un po' il tutto e qua abbiamo il crafting dove possiamo andare a raffinare i metalli grezzi creare aggiornamenti armi vedete un sacco di cose da poter fare ora dobbiamo andare qua quindi io seleziono e mi muovo all'interno come abbiamo già visto prima all'interno dello stesso sistema solare e pronti a combattere non abbiamo droni ancora quindi la nave poi la andremo a potenziare in futuro il gioco è molto interessante intanto sotto casa stanno scaricando con un muletto si sente chiaramente no è molto molto interessante come titolo senza dubbio ok vediamo un attimo se abbiamo un ospite che cosa sta rispettando attacca ok devo capire quali sono ok eccoli qua inizio a sparare vedete che e ovviamente mi stanno già facendo il paiolo si sono veramente forti queste navi non li tiro giù niente direi che cattivello un po' come peggio di vediamo se riesco a tornarmene al gate via 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 bello perché mi piace unisce questa meccanica di gioco alla intanto siamo esplosi meccanica alla eve online dove gestiamo le varie cose però veramente un po' alla mountain blade mi hanno un po' aperto ora siamo dove siamo ok trade outpost voglio andare scusate ma 14 ci ha salvato quando ci siamo mossi lì no io direi che stavolta non mi viene neanche in mente di andare lì io voglio andare al trade outpost warp andiamo lì e almeno cioè non abbiamo un soldo ci hanno dato una missione per cui ci sono cinque navi che non esplodono neanche sparandoli chissà che cosa bisogna potenziare la nave ovviamente adesso vi ho fatto vedere questa modalità in modo che non avevamo testi da leggere dialoghi da fare ovviamente quello che vi consiglio è di iniziare una modalità storia in modo che il gioco vi guida all'interno di sempre questo universo che resta comunque uguale ma dandovi magari anche degli oggetti connetti mercant galaxy bank non abbiamo niente nella galaxy bank non si può attaccare qua quindi merchant payoff bounty trade panel merchant niente voglio provare a fare una cosa allora voglio andare alla stazione AR14 warp attacchiamo lì e vediamo com'è fatta quella che al momento la stazione che ho visto era un'altra e mi ricorda un po' la struttura delle stazioni di X Rebirth quindi non fate granché sulla stazione cioè camminate insomma è un gioco single player quindi però è un gioco che comunque hanno sviluppato tanto ed è finalmente uscito poi veramente adesso sarà tutto in mano agli sviluppatori se decideranno di portare avanti questo progetto oltre l'uscita diciamo dock dock nave poi io dico non è il gioco della vita questo è vero ma se siete appassionati di giochi un po' la X4 foundations un po' la mountain blade questo potrebbe essere un titolo per voi ma a dir la verità questa qui mi sembra un po' come l'altra stazione se non la stessa ma non vorrei dire ma secondo me mi sono sbagliato io e siamo già stati qui quindi adesso magari andiamo da un'altra parte ridecolliamo nuovamente perché poi comunque potete combattere con la visuale interna alla nave non solo posteriore potete guidarla così la nave si adesso shift vedete che me la comando io così ho usato tutte e tre le armi adesso se no ve la usate così insomma allora adesso stacco vediamo un attimo non abbiamo interazioni con i pianeti ah intanto le navi si stanno spostando lì ma non mi viene nemmeno in mente di muovermi lì voglio prendere questo vado in un settore a caso perché poi potrete anche scansionare i settori di cose da fare ce ne sono poi i pianeti ce ne sono tanti ma onestamente ignoranza mia non so ancora se ci si possa atterrare sopra ma credo di no ok siamo pronti jump poi col tasto shift si dà un diciamo un attacco a retrobooster andiamo station capital no station vedete c'è già una stransione and research facility andiamo in questa research station no andiamo capital station così vi faccio vedere un pochino come funziona allora ovviamente non vi sto insegnando a giocare vi ho spiegato un pochino quello che sapevo io spero che comunque il gioco possa ispirarvi ma chi magari non lo conosceva il gioco dovrebbe avere anche delle buone recensioni per quanto ne avesse in passato in early access un pochino nella media adesso mi pare siano comunque un pochino migliorate non lo trovo male sicuramente bisogna avere una mente libera cosa che al momento io non ho per poter giocare solo questo dedicarsi a crescere all'interno di questo universo ne facessero di più di giochi del genere sarebbe senz'altro meglio ora attacchiamo poi non si capisce bene se qua dentro c'è gravità o meno perché la nave si muove un po' così però poi resta ferma però ovviamente si niente purtroppo l'area di attacco è sempre più o meno quello anche l'interno della stazione io in realtà vi dico ne ho viste più di una di stazioni erano leggermente diverse ce ne erano di diversi tipi adesso io sono entrato qua e mi sembrano un po' tutte molto simili in realtà ne ho viste altre quindi adesso magari proviamo a visitarne andiamo a visitare una research facility e vediamo se c'è qualche cosa in più perché qua comunque anche le cose trader sono sempre quelli proviamo ad andare a vedere la research che magari sono non che su x4 le stazioni fossero diverse come in ogni gioco spaziale sono tutte bene o male fatte uguali quindi volevo solo così togliermi un dubbio anch'io vediamo un attimo è enorme la research facility vabbè saltiamo dai facciamo un giretto così nello spazio dato che il combattimento abbiamo già visto che non abbiamo le abilità per farlo non abbiamo neanche le capacità economiche per poter affrontare un un commercio quindi ora jumpiamo che brutto ho detto jumpiamo il cargo è questo abbiamo anche ah ecco non ve l'ho fatto vedere c'è anche la possibilità di trasportare persone andiamo alla facility sì perché poi trasporteremo anche persone cioè è un gioco che così a prima vista può sembrare più povero di quello che in realtà non è perché di possibilità ce ne sono e da quello che ho capito credo si possa anche gestire una flotta propria però non vorrei dire una cavolata però mi pare che qualche ecco questa è la nave con tutti i nostri parametri poi magari se qualcuno di voi lo ha giocato più a fondo può dirmi può confermarmi se ci sia o meno una flotta perché il tutorial non non mi diceva nulla allora c'è la nove station c'è una military outpost e poi c'è la nove station che a me sembra onestamente anche questa è uguale quindi insomma vediamo nuovamente questo era comunque un primo video così di scopriamo questo titolo ve lo porto diciamo un pochino alle cronache e poi ovviamente sarà da vedere quanto feedback ci sarà da parte vostra spero che qua sotto possiate darvi i vostri feedback in proposito se vi è piaciuto se non vi è piaciuto se non lo conoscevate e soprattutto se avete già avuto ore e ore di esperienza su questo titolo attendo con curiosità i vostri feedback allora questa è la research station e scommettere è uguale all'altra infatti in realtà come vi ho detto ne ho viste altre anche di stazioni probabilmente sto esplorando il settore di una fazione infatti qua sotto si finisce in banca dopo ce la conosco bene o male abbastanza infatti qua sì poi comodo anche così perché all'inizio a scoprire dove era la banca dove erano tutte le postazioni del trader è stato veramente un casino quindi ben venga per questo aspetto però magari altre ce ne sono perché ne ho viste altre poi non è bellissima da vedere insomma anche qua sotto così sto diventando più critico nel corso del tempo una volta parlavo bene di tutto difendevo tutto ora qualcosina in più però ricordiamo che questo è proprio un indie indie non c'è magari una casa che ha già esperienza come un egosoft dietro quindi il gioco è sicuramente promettente il gioco è sicuramente promettente attendo i vostri feedback come già detto qua sotto nei commenti e un ciao ciao ragazzi e alla prossima